Non ce la faceva più a sopportare gli schiamazzi e le grida di alcuni bambini che giocavano nelle vicinanze della sua abitazione. E per questo, dopo aver litigato con la mamma di piccoli, sua conoscente, la ha coltellata, ferendola ad un braccio. È successo a Corato, dove una donna di 28 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate, violazioni di domicilio e porto abusivo di armi. La giovane, stanca delle grida dei bambini, ha prima avuto una discussione con la mamma, una donna di 32 anni, ha poi preso un coltello e raggiunto l'abitazione della donna, dove ha forzato la porta e fatto eruzione, aggredendola e ferendola ad un braccio e alla spalla. I carabinieri, chiamati dai vicini, hanno raggiunto la giovane per strada, mentre impugnava ancora il coltello e l'hanno arrestata. Su disposizione della procura si trova gli arresti domiciliari. La vittima, soccorsa dal personale sanitario, ha riportato lesioni giudicate e guaribili in due settimane.